novità in arrivo per la puntata di un posto al sole di questa sera 24 aprile che cosa succederà le anticipazioni arrivano per i telespettatori più curiosi nell'attesa di poter scoprire evoluzioni e colpi di scena stravolgenti amatissima da anni un posto al sole la sop che tiene compagnia a milioni di italiani da anni gli abitanti del palazzo palladini portano sul piccolo schermo il racconto di dinamiche problematiche che appartengono alla routine della maggior parte dei fan questo è di sicuro un aspetto vincente per il successo costante del prodotto tra delusioni sentimentali ed eventi familiari un posto al sole segue una linea veritiera con i tempi attuali tanti attori nel corso degli anni hanno avuto la possibilità di poter interpretare un ruolo all'interno della sop questo ha permesso al pubblico di potersi affezionare ai personaggi creando seppur attraverso uno schermo un rapporto d'affetto per questa ragione è spesso poco vantaggioso per il racconto l'abbandono di qualche attore nel corso delle varie stagioni l'assenza genera da sempre un malcontento generale nei fan soprattutto se il personaggio è parecchio attenzionato un posto al sole anticipazioni stasera 24 aprile michele distrutto dal dolore nelle puntate precedenti tante dinamiche hanno incollato i telespettatori al televisore mariella e guido non riescono più a trovare una linea comune il loro rapporto è ormai infrantumi la donna non è riuscita a recuperare i rapporti con il compagno l'unica strada possibile è stata quella della separazione clara ha deciso di tenere il bambino per questo motivo eduardo è pronto a collaborare con la giustizia entrando nel programma di protezione ma arriviamo al dunque che cosa succederà nella puntata di stasera al centro delle dinamiche michele l'uomo non riuscirà a nascondere la delusione per la scelta di silvia quest'ultima ha accettato la proposta di matrimonio di giancarlo per questo i due dovranno separarsi in modo definitivo jimmy non condividerà la partenza di nico per questo renato proverà a sostenerlo aiutandolo a superare questo distacco clara si ritroverà invece a riflettere sul suo futuro la situazione di eduardo è molto delicata riusciranno a trovare la chiave giusta per essere felici nico e valeria proseguiranno la loro storia i due sono molto complici e questo scaturirà un dispiacere in manuela accettare che il suo uomo sia felice con un'altra è molto difficile come si metteranno le cose i fan non non possono più fare a meno del racconto la sopa è diventata parte costante delle giornate di moltissimi telespettatori per non perdervi nemmeno un dettaglio saliente l'appuntamento è questa sera alle 20 50 su rai 3 con una nuova puntata di un posto al sole ecco ecco